Pronto? Si? Pronto? No, non mi manchi tanto, ti voglio tanto bene e quando si è guarito questo virus potrà venire, ma quando è guarito mamma mia bisogna aspettare tanti giorni, potrebbe pioggia e domani è un giorno la neve e boom. E basta, non bisogna uscire di casa, io sto solo qua sotto. E basta. Ciao nonna, allora mi manchi anche tu tanto e poi sai che cosa ho fatto? Io ho fatto qualcosa per te perché ti voglio tanto bene. Oggi ti farò un disegno, ti faccio un disegno. Ciao ciao nonna. Ciao nonna, come state? Io abbastanza bene e spero che questa situazione possa presto perché sono un po' stufo perché non ci fanno uscire. Ciao bacioni. Ciao nonna, come state? Io sono a casa che guardo la tv che sono arrabbiata con il coronavirus. Ci vediamo presto. Ciao nonna, come state? Ciao nipotini. A presto. Andrà tutto bene.